Ah, tu mi dici Paros. No, io vi ricordo che è il 10 d'agosto, eh. Come ci sono solo tre posti? Oh, la bambina no, eh. E con la bambina avete risolto? Mi lasciano in collegio. Speriamo ci sia la sorella dell'anno scorso. Quella che mi menava. Eh, c'era dove stavi? La mamma è che stavi. Ma voi siete sicuri che questa è l'isola adatta a noi, eh? Ti dico solo due parole. Ah. Attento. Ora se ci va. Detto giù, ma sentite? Eh, beh, beh, beh. Siete usciti ieri sera? Sì, sì. Ma solo un giretto, eh. No, no, eh. Questa è giù, ma non leccano. Non ci siamo a fare. Io non guarderei un'altra donna neanche con la coda dell'occhio. Ma se non fossi stata con Giorgio, me l'avresti dato quel bacio? No. Io ti ho tradito. Madre. Sono a Paros. A me serve un bambino triste, incazzato. Incazzato? No, mi serve così. E lui, Angelo? Mi ricordavo Simone, no? Simone, Simone, mio Angelo. Cosa non fareste voi per una scopata, eh? Chi è questo bel bambino? E come chi è? È mio figlio. E quando l'ha fatto stanotte? Qui ognuno è venuto in vacanza per stare per i cazzi suoi, vero? C'è una mogliezze a ballare. Ti faccio fare l'alba, chicca. Cosa non è venuto in vacanza per la coda? Ci voleva lei, ci voleva lei, ci voleva lei, che ti portasse fino a qui, perché fossi come sei, perché fossi così. E ci voleva sano come spesso, basta un viaggio, pochi grammi di coraggio, un vestito un po' più corto e poi lo sguardo. Cosa non è venuto in vacanza per la coda? Cosa non è venuto in vacanza per la coda?